Stanno per passare Ma stanno salutando? Ma stanno salutando? Ma dove venite? No, la faccia, ci siamo ne qui Ah, dove sono? E poi andate fuori a fare video Ma fredda fuori a fare video Maestro, fredda fuori Mi fai delle domande? Io sto qua dove stai tu Che ne so Mi so che tra due minuti deve partire Se ti stai caldo Ma se no la chiesi oggi Non può ne passare Quando senti la sirena Vuol dire che stanno partendo Solo questi organizzativi Dovrebbero già essere partiti Però ancora non parto Ne vede ne vede Ci sono problemi Io sto qua come te Non sto alla villa da dove parto Bene, grazie, amore Grazie 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 Addio, castigato Oh mio Dio Ma quando ce ne stanno? Ma questo c'è tutto in trento S Ronaldo Ma voi stai sentita Ciao Non si Ma hai sensato? Bravi Bravi No Non lo so Non lo so Ma hai sensato? Ma hai sensato? Ma hai sensato? Ma hai sensato? Hai sensato? Ma hai sensato? Ma hai sensato? Grazie a tutti.